allora siete collegati andiamo a farci un giro al centro ciao a tutti, saluto da Tirana questa è la piazza principale di Tirana, piazza Castriota-Skanderberg è un luogo simbolico non solo della capitale ma dell'intero universo albanese questa è la piazza principale coi suoi 5 ettari di superficie rappresenta idealmente il centro geografico e politico dell'Albania la piazza Giorgio Castriota, detto Skanderberg, sorprende per le sue dimensioni posta nel cuore di Tirana ricorda l'epoca comunista quando un'intenzione tale serviva oltre alle sfilate dell'esercito ovviamente a mostrare la potenza del regime la piazza prese l'attuale nome nel 1268 quando vi fu collocato il monumento equestre per il cinquecentenario della morte dell'eroe nazionale albanese la cattedrale ortodossa da risurrezione di chiudo di Cristo. Grazie a tutti. 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 E' la città di Rana tranquilla e rilassata. Non c'è tanto da vedere veramente. Ah, visita ne vale la pena. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco come si fanno le riprese mentre si guida. Io pensavo che ci fosse sempre la macchina davanti che non attaccano proprio la telecamera sul copano. E' la città di Rana. 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 Alla bene Dammage facciamo un giro in chiesa niente applausi, niente armi niente pace d'amore 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 sono 6 sui 5 euro circa buona ho preso una zuppa di frutti di mare e delle linguine e frutti di mare intanto fuori piove il posto mi piace penso che tornerò anche nei prossimi giorni e 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 a tutti i tassi sono elettrici o non lavo si vede che hanno preso qualche incentivo e 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 un autobus fatto da negozio e 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 chiuso il bello di tirano è che qua tutti parlano italiano o parlano italiano o comunque ti capiscono e ci vediamo in cultura mi è piaciuto il ristorante di pesce ritorniamo anche la sera e e e e e e ho preso l'insalata con scaglia di grana e polpo rucola e insalata Baccalata tartufa non crema di tartufa e 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 mettiamoci le scarpe e usciamo ciao a tutti un saluto da dirada ecco qua la città e 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 capistante gratinate capistante gratinate gli spaghetti ai frutti di mare gli spaghetti ai frutti di mare questi saranno per estendersi e si mette così dormire sopra e si guarda il cellulare potrebbe anche dormire si sta abbastanza comodo e 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 crostini con salmone e 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 basta i frutti di mare e e e e e e e ecco l'ingresso dell'aeroporto di dirana ecco l'aeroporto di dirana ecco l'aeroporto di dirana e 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